Oggi abbiamo la giunta, la giunta comunale, che è una giunta che per la prima volta sei persone si affacciano per la prima volta all'interno di questo organo. Abbiamo tre donne, come ricordava, che sono, le ricordo anche, la Pireri per i servizi sociali, l'Anna Maria Seretto che preparà la floricultura, attività produttive, verde pubblico, operazioni e la Daniela Cassini, legata al turismo e alla cultura. Dunque, nei prossimi giorni, domani ci sarà subito la prima giunta, si inizierà a creare un po' le regole su cui dover lavorare. Le problematiche sono tantissime da affrontare, abbiamo problematiche legate al discorso dello smaltimento rifiuti, della differenziata, della riorganizzazione della macchina comunale, tanti piccoli problemi della manutenzione ordinaria, ma senza dimenticare la cosa più importante è il bilancio.